Ragazzuoli bellissimi, bentornati, io sono il vostro Grax, siamo su Brostars, applicazione sviluppatore, buon Halloween a tutti quanti! Guardate che abbiamo di fronte la cassa RIP! Perché sto nell'app sviluppatore? Perché le simuleremo, probabilmente non so se le abbiamo già aperte, oppure le apriremo oggi arrivando a 20 miliardi di eliminazioni sul gioco ufficiale. Ma dato che Grax sta a Helsinki perché ci stanno le finali, infatti vi parlerò anche di premi gratis, rimanete sintonizzati così non vi perdete niente. Le simuliamo qui, ne apriamo 100, vi dirò tutte quante le statistiche, vediamo che cosa possono contenere e quali skin possono uscire. Se siete stati fortunati o meno con l'apertura, seguite il piccolo Grax. In cambio vi chiedo 5 mila like totalmente gratis, iscriviti e campanella ti aggiorno su tutto, codice Grax ovunque, Supercell Store, in descrizione, alla fine degli shop. Vediamo insieme! 9 skip, che te danno? Allora, ragazzuoli... Graffito e reazione. Ragazzi, io già ve lo dico, dopo l'immensa scammata degli star drop demoniaci angelici, preparatevi perché arriverà probabilmente anche una battaglia di star drop, ne simuleremo 104 contro 104, che sono quelli gratis che si possono aprire garantiti, facendo tutte le vittorie tutti i giorni. Probabilmente da 100, forse se te va bene ci trovi due skin di quelle normali. Mi avete segnalato un video di Lex dove ne apre 900, mi sembra, 950 per trovare una sola skin di Edgar. Se ne sono veramente passati, evento che, boh, poi lo rianalizzeremo una volta che uscirà e vi dirò il mio parere completo. A differenza di tutti quanti gli altri eventi dove almeno un hyper skin la prendevamo gratis, semplicemente giocando, è successo con quella di Godzilla tramite il club, la skinne di Stecca con le 10 megacassa aperte e quella di SpongeBob non hyper skin ma comunque tramite club, in questo evento t'hanno messo il doppio delle hyper skin perché so 6 e non te ne fanno prendere neanche una. e il bello è che hanno scammato pure quelli che shoppano perché ti devi shoppare mille star drop di un tipo per averne una garantita, per prenderle tutte e tre, le simuleremo, non vi preoccupate. Andiamo step by step, oggi trattiamo le casse RIP, vi farò vedere le statistiche, prima però andiamo un attimo su Event Brostars. Troverete il link in descrizione, event.supercell.com, Brostars, loggate il vostro Supercell ID con il vostro account perché facendo i pronostici avrete la possibilità di beccare un sacco di ricompensa, aspettate eh. No fermi, devo farli per forza altrimenti li perdo. SK Gaming e Andrei, questi sono per il primo giorno, ogni giorno perché domani cominceranno le finali, ci saranno domani primo novembre, sabato 2 novembre e domenica 3 novembre quelle finalissime. Ogni giorno dovrete fare i pronostici, portatevi avanti così non ve li dimenticate. Facendo i pronostici e seguendo le live che troverete sul canale di Ferre e PlayerD, sia di YouTube che di Twitch, riuscirete a prendere punti per sbloccare un hyper charge totalmente gratis. Ah tra l'altro, boni, screen per voi, ne avete due di hyper charge, cioè uno gratis con questo QR, e vi metto il link in descrizione a Whatsapp, passateci per il link diretto, più uno delle finali, quindi due per charge. Non so se siete ancora in tempo per sbloccarlo, nel dubbio chi era iscritto, ho fatto lo shorts quasi una settimana fa e il link in descrizione su Whatsapp, c'era appunto il link da un bel po'. Queste sono le scelte che sto per confermare che ho fatto io, SK Gaming, Space Station, Zadivision, Amball, Replayed Otem, SK, Amball, Zadivision, Elevate, Replayed Otem, Crazy Raccoon e Rival. Io nel dubbio lo inviamo. Così di sicuro non me li perdo. Mettendo la X andando... E già ho preso dei punti, quindi lo potete fare. Guardate quanta roba, c'è sta un pin negli star drop, lo star drop classificato e per un totale di 2000 c'è sta pure l'hyper charge. Sono soldi risparmiati, bene. Tutto totalmente gratis, ora si va con le megabox, ma prima guardiamo le percentuali insieme. 52% di monete saranno strapieni di monete, 1000 coin 0,18, raddoppio XP, poi abbiamo un pin all'8,77, quindi uno garantito quasi ogni 100 skip. Ci stanno tanti skip, quindi ce può sta. Poi c'è sta l'icona giocatore, il gadget, la star power, hyper charge, brawler raro, super raro, epico, mitico, leggendario. Leggendario al 18% come il mitico. Molto difficile da beccare, io in questo momento nell'account ce l'ho tutti quanti sbloccati, quindi non li troveremo. Quello che voglio vedere sono le skin. Una skin da 29 gemme, che vedete nella parte di destra, sono elencate lì, all'1,4%. Da 79 gemme, 0,88. Da 149, 0,53. Uno ogni 500. Skin mitica da 199, 0,18. Un po' meglio rispetto alle pre-skin, ma è comunque difficilissimo. Queste qua sono tutte quante le skin che si possono trovare. C'è un errore perché Witch e Shelly non si può trovare, si può trovare la fattucchiera. Mentre per quanto riguarda quella sotto, delle on, è una skin da 79, non da 199. Mi sa che a questo punto solamente una skin mitica si può trovare. Simulate! Se parte! Le apriamo tutte! Un sacco di skipetti, dammi le monete. Do stanno sti pin? Ok, avendo tanti skip, diciamo che può uscirti la roba, sono sincero. Sono tante monete. Dobbiamo sbrigarci perché sono veramente tante. Una marea di monete. Andiamo veloci. Vediamo gli skip. Mamma mia! Ragazzi, sono sincero. Un pochetto... Me mancano le vecchie megacassi. È vero che te ne hanno regalate 10, eh? Crediti? Ah, ok, avevo trovato un brawler. Bene. Ora non so se è il compenso... Mi sa del brawler mitico, credo. Avrei trovato un brawler? Ok, se va nella fama. Perfetto. 19! E allora qui si tratta di qualche skin importante. Oh! Rosa! La vecchissima! Si può ritrovare. Più? Ecco, qui ho sbancato praticamente. Cioè, troverò tutte le skin di Halloween. Tutti i pin. Qui sono stato fortunatissimo. Te capita una cassa del genere. Doppia skin. Certo, poi dopo le alterni a queste qua. Oh! 100 crediti forse brawler raro? Andiamo veloci ragazzi, sono tantissime. Tutto oro, crediti. Attenzione! Guardate, il fatto che ci siano gli skip, a differenza degli star drop che sono monoskip, ecco perché di aprirne mille di star drop, per poter trovare l'hyperskin, qui alla fine ogni skip ha la sua probabilità. E allora, se tu in una cassa trovi di media 10 skip, devi togliere 1-0 a quelle percentuali, non male. Puoi trovare un sacco di skin, solo che ne apriamo solamente 10. Diciamo che, vediamo un po', alla fine di queste 100 che cosa andremo a trovare. Apri i grax, belli veloci, graffiti, bisogna spingere le casse, no ci mettiamo 3 anni, diventa un video. Oh, il pin del pentolino! Buono quel pentolino. Farò lo stesso video anche per quanto riguarda le casse, quelle della ladder, cioè vi farò vedere tutte quante le casse, le tipologie, e poi ne aprirò probabilmente 100 di quelle giganti, credo che te maxi l'account. Però sarebbe figo per vedere effettivamente se riesco a trovare l'hyperskin. Mamma mia, almeno i 200 bling, ma... Ne laggano pure per quante non caricate. Uh, parecchi skip ragazzi, attenzione. Calmi, monete. 10 skip. Buster, moto, sega. Bella, più te dà tutti i pin. Cioè, ma te li dà così insieme alla skin? What? Scusate, questa qua era una skin del pass? Possibile? Quindi te le fa recuperare tutte? Figo. Non mi vorrei sbagliare però ragazzi, solo che tutti quei pin così rari, probabilmente sì. Ok. Quella lì di rosa invece me la ricordo perché erano usciti i pin sul negozio in combo con la sfida di quella rosa. Se non ricordo male. Eh, ricordalo bene Grax perché parliamo veramente della storia del Grax che scioppavo i pacchetti. Quanto mi mancano quei momenti spensierati? Certo, considerando il tipo di vita che facevo ai tempi, non lo so. Oh, sono un buon farm per la fama, perché c'è buona probabilità di trovare i brawler, soprattutto per quelli che hanno tutto quanto maxato. 100 crediti. Se buttano via. Logicamente... Dai, no, ma che mangia i cervelli quella nuova? Ora non so quante ne ho aperte, però via, sicuramente più di 10 l'ho trovata. Skin da 79 gemme. Ho controllato, nelle box rip si possono trovare solamente oro oppure raddoppio XP. Se stiamo trovando i bling e crediti è perché abbiamo sicuramente finito i pin e gli avatar per quanto riguarda i bling, mentre i crediti se abbiamo finito i brawler. Ok, tutti i cosmetici di Halloween l'abbiamo visti tutti quanti, quelli che si possono trovare. Ora posso trovare invece le skin. Chester giullare, broccoletto con la bara, le debbo dire più il pin. Ok, posso trovare i pin, ma per forza di cose dobbiamo trovare il brawler per quei pin, capito? Infatti qui... Colette della classificata, bene. Ragazzi, allora, box rip hanno il loro perché. Sono sincero, mi ha dato pure l'avatar. Non so per niente male, credo che cocento... Allora, non penso di trovare tutti quanti... tutte le skin, eh? Non credo. Anche perché devo ancora trovare... il primo. Voi fate il conto, magari spuntate le skin che sto trovando, contate quelle che rimangono. Zombibi. Ok. Con il pin annesso, sempre monetine. Vediamo se trovo qualche altra skin, devo ancora trovare. La pam, quella lì putrefatta, il gas, perché non le ho sbloccate qua, eh? Ok, eccolo! Belle, le mie casse, quelle che ritirerò nel mio account. Preparatevi quando tornerò da Helsinki, le spacchetteremo tutte quante, sperando che non mi scadano, perché se me scadono... Squeak fantasma! Ragazzi, la cosa più bella dell'aggiornamento... Uh, mille crediti! La cosa più bella dell'aggiornamento, probabilmente, sono queste casse, che poi queste non fanno parte dell'aggiornamento, perché le hanno annunciate prima, le hanno solamente introdotte con l'aggiornamento. Forse le casse quelle della ladder, sicuramente anche quelle sono bellissime, però quella è una cassa al mese. Cioè, non mi paragonate le casse della ladder agli star drop dell'evento, perché gli star drop dell'evento, ragazzi, è un mese scammato di star drop. Ti vanno a rimpiazzare i tre star drop giornalieri, che potrebbero diventare leggendari e mitici, con quegli star drop angelici e demoniaci, che sono scammatissimi. Cioè, hai capito? Mi seguite il discorso? Nessuno ne parla! Cioè, nessuno parla dell'incredibile scammata, non... Uh, Uh, tu senza testa! Questa è da 149, mi sembra. L'Avatar e Crediti. Bellissime box, ragazzi. Ora, io non so se uniranno gli skip nella versione ufficiale, eh, ma credo che siano in questo modo qua. Penso di sì. Qui le abbiamo in anticipo. Vediamo insieme, vai, vai. Chack. Chack. Non è lo scorpione, ma il Chack infernale. Senza pin, senza niente. Ne stiamo quasi trovando tutte quante. Mi manca la pamba putrefatta. Magari mi devo mettere sotto la tabella per capire. È vero che non mi sta dando bling. Ok. Me ne ha dato alla fine 200. Non so se è il compenso di una skin. Con meno di 100 di maxi, no. Mi manca ancora la Shelly. Vorrei beccare Shelly se è possibile. Ok, eccola. Vediamo, quattro... Eccola! Shelly fa tucchiera. Ve l'avevo detto che era un errore. Skin mitica. Ci abbiamo messo tante casse, eh. Però non male e ti va a dare pure il graffito tutto completo. Bellissima. A sto punto manca PAM putrefatta. Attenzione. Fenga gaboscia. Stanno uscendo tutte, Avatar. Benissimo. E pinna. Oh! Gromstein! Clamorose queste. Clamorose. Ragazzi, quando una cosa è scamma, va detto. Quando una cosa funziona, va detto. Cioè, funziona così. Bisogna essere oggettivi. Bellissime. Raddoppi XP a cannone. Vediamo se esce qualcos'altro. Dovremmo essere verso la fine, eh. Questa simulazione è andata. Altri skip. Niente. Se laggo un pochino, regà, capitolo, perché stiamo spingendo di brutto. Sicuramente me sto a far diventare epilettici, perché... L'utopatia pura. Tutte ste luci sparate. Bling. Raddoppi XP. Monete. 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 Ma c'è la pamba putrefatta. Aspettate che controllo. Sì, c'è la pamba putrefatta. Mi sa che mancano le colette. Io intanto apro il Zoom Brock. Lo abbiamo trovato. Zoom Bibi trovata. Dark Chester sì. Bisogna trovare il genio. E i brawler li ho tutti, eh. Manca il Dynamike. No, parecchie skin si possono trovare. Si può trovare Penny. Forse qui una, no? Non le troveremo tutte, probabilmente. Qui ti va a dare crediti. Tanto lo capisci quando hai più skip ad aprire. Nove. Un po' scammate sul finale. Però la mitica l'abbiamo trovata. Devo trovare Leon. Giusto. Non c'è il lupetto. Ma c'è quello lì con i bottoni. Spero trovarlo sul primo account. Sarebbe un sogno. Oppure magari sono sbagliate, eh. Potrebbero anche essere sbagliate qui nell'app sviluppatore. E non ci hanno messo tutte quante le ricompense. Perché adesso me ne sta da più neanche una. Sembrano solo compensazioni. Un sacco di bling. Allora, io penso di aver trovato tutto. Vediamo. Sul finale. Si spinge fortissimo. Mi sa che non ci hanno messo tutte le skin. Rispetto al post. Letteralmente impossibile finirle, raga. Credi di bling. Quindi qualcosa di estetico stai trovando, ma... Oppure magari è uscita e non me ne so accorto? Voi correggetemi nei commenti sempre, eh. Mi sa che ci stiamo, raga. Probabilmente il foglio è sbagliato. Il Leon no. Il Caboccio l'ho trovato. Penny non l'ho trovata, sicuramente. Rosa sì. Stu senza testa sì. Gas sì. Dynamike sì, scusate, l'ho trovato. Mi manca solo a questo punto. Genio. Credo, Genio, Leon e Penny. Poi, sicuramente poi in editing... Vuoi vedere che invece Genio è uscito? Penny pure. Stiamo cercando Leon, ma Leon non esce. E quello è un bug. E c'è solo Shelly. Quante ne mancano? Allora, di sicuro ho trovato tutto, ragazzi. Di sicuro. Complimenti a quelli che sono arrivati alla fine! Si può trovare l'hypercharge allo 0,88, ma i gadget di Star Power? Forse non le fa trovare perché non ho il brawler a livello giusto per poter sbloccare il gadget alla Star. Mentre l'hyper sì. Credo, eh. Avrei dovuto portare tutti quanti i brawler alti. Ok, finite, regà. Allora, vado a sbloccare un attimo i gadget e apro un altro paio di box giusto per capire se funziona. Ho sbloccato nel primo, vediamo se mi dà gadget e Star Power con tre casse e poi ci salutiamo belli, eh. Allora, in questo caso non me ne sta dando. Non lo so, ragazzi. Attenzione, 10 skip! Fermi! Altra hyper! Bene! E invece calmi! Eccola la pam! Quindi c'è! E non è finita qua! Penny! Saranno un attimo buggate, ragazzi! E i vari pin! A questo punto credo che non ci sia le on! Vediamo un po' le ultimissime! Le abbiamo aperte tante, raga! E lo star dropper non è uscito! Vabbè! Le skinne ci sono! Ma pure il genio manca! Di sicuro le onne con i bottoni! Non si è visto! Ragazzoli, queste sono le casse RIP! Vi chiedo un pollicione! Vi ho fatto vedere tutte quante le percentuali! Iscriviti e campanella è fondamentale per il mio raggiornato! Trovi tutti i link in descrizione! A hypercharge! Ricompense delle finali mondiali! Domani cominciano, fai pronostici! Noi ci becchiamo un prossimo video! Un bacio al vostro Grax! Ciao belli! Ciao ciao!